Ben trovati dall'Ordine degli Avvocati di Roma. Questa sera abbiamo un parterre d'eccezione, un argomento particolare perché tratteremo i danni nel diritto di famiglia, danni punitivi e danni familiari e nel portarvi i saluti del Presidente Paolo Nesta che purtroppo perché non ha il dono dell'ubiquità, ha altri impegni già istituzionali, già pregressi e quindi io porto i suoi saluti. E buon lavoro, di buon lavoro nel pomeriggio. Oggi insomma tratteremo questo argomento che è stato rinnovato dall'ultima grande riforma detta riforma Cartabia, come tutti sapete che ci stiamo dando il tormentone con questa riforma, tutti quanti stiamo allertati allo studio delle norme puntualmente perché tante cose sono cambiate, fra cui anche quella di affrontare appunto i casi di inadempimento agli obbligi di natura economica nei confronti dei figli come anche rispetto alle modalità di frequentazione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Allora quindi oggi ci addentreremo appunto in questo particolare diciamo tema e vedendo cosa è cambiato. In realtà a primo, così a un primo sguardo, io poi ovviamente si addentreranno e approfondiranno l'argomento, vedo sostanzialmente due cambiamenti molto importanti. Prima di tutto quello del rafforzamento dei poteri del giudice, il potere discrezionale, ma non solo discrezionale, può fare con depotenziamento ovviamente poi rispetto alla nostra attività di legali. E poi ripercorrendo quindi le orme del 709 terre, era già in atto da tempo il cambiamento e con questa riforma diciamo si è formalizzato e è andato concretizzandosi. E poi l'aspetto risarcitorio e punitivo della norma. Quindi adesso io non indugio ancora perché ci sono dei relatori che meglio di me possono illustrare questo cambiamento. e passo la parola all'amico ex consigliere dell'ordine, già consigliere dell'ordine e titolare responsabile della commissione famiglia che io insomma in questo momento mi onoro di rappresentare e professore di legislazione a tutela dell'infanzia e adolescenza presso l'università La Sapienza di Roma, nonché vicepresidente del comitato media e minori presso il ministero del sviluppo economico. Facciamo tante cose insieme. Quindi prego Matteo, ti ascoltiamo. Tanto sempre onorato di essere quest'aula che mi ha visto come consigliere per dieci anni, quindi insomma anche un po' di nostalgia. Ne parlavamo prima un po', rimpiango i tempi in cui tutti i partecipanti erano in presenza ormai dopo il Covid, con questi mezzi tecnologici. Giustamente i colleghi, seppur numerosissimi, preferiscono nel misura del 90% collegarsi da studio, ancora più onorevoli invece i colleghi che sfidano impegni familiari, professionali, intemperie per ascoltarci di persona. Su un tema che è molto molto delicato, intorno al quale abbiamo molto discusso anche in ambito accademico, in ambito universitario, ma anche in Commissione Giustizia, quando sono stato interpellato per tutto ciò che concerne l'ingresso dei danni punitivi nel nostro sistema giuridico e giudiziario, non soltanto nel diritto di famiglia. Mi riferisco ancora prima rispetto all'introduzione dell'ex 709 Terra. Sicuramente c'è stata una grandissima evoluzione giurisprudenziale sin da quando era negato in modo reciso in Italia l'ingresso del concetto stesso di danno punitivo, e come sapete è un concetto che deriva da una cultura anglosassone e che sostanzialmente attribuisce al concetto di danno una natura polifunzionale, si dice questo perché in Italia tendiamo, o tendevamo, o tendevamo a considerare quasi esclusivamente l'aspetto risarcitorio. Allora c'è un danno, c'era un danno quando si poteva accertare, o si può accertare l'entità di questo danno in capo alla vittima, parliamo sia in ambito civile che in ambito penale. Mentre ci sono tantissime altre legislazioni, soprattutto quelle di natura, di origine anglosassone, che considerano il danno anche sotto altri profili, quindi danno come danno sanzionatorio, cioè tu commetti un atto illecito e vieni sanzionato per quest'atto illecito anche sotto un profilo economico, a prescindere da quelle che possono essere le conseguenze effettive o potenziali in capo alla vittima. E poi c'è anche il danno cosiddetto, la sanzione cosiddetta deterrente. Pensate a quello che era la formulazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile, quindi la responsabilità gravata, la lite temeraria. Quindi piano piano nel nostro ordinamento siamo riusciti, giustamente per quanto mi riguarda, a digerire questo concetto della natura polifunzionale del danno. E su questo io partirei proprio da quello che è stato introdotto dall'articolo 473 bis,39 nel decreto legislativo 149, in sostanza la riforma cartabbia. Ovvero in caso di gravi inadempienze anche di natura economica o di atti che reghino pregiudizio al minore o staglino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente ammonire il genitore inadempiente, individuare i sensi del 614 bis, la somma di denaro dovuta all'obbligato per ogni violazione o un'osservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro fino al massimo di 5.000 euro a favore della cassa delle ammende. Nei casi di cui il primo combo il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore. Senza entrare nel merito di argomenti che so che tratteranno anche gli altri relatori, molto brevemente vorrei introdurre un paio di concetti. Allora, in questo caso l'aspetto fondamentale è che queste sanzioni, cioè questi provvedimenti, sono applicabili sia per quanto riguarda inadempienze e inadempimenti di natura economica ma anche di natura, come si dice, relazionale, quindi sotto il profilo della frequentazione, sotto il profilo dell'affidamento. Cosa che prima non era possibile, sapete bene, ne abbiamo anche parlato in altri convegni, addirittura era intervenuta la Corte Costituzionale, poi è intervenuta anche la Corte di Cassazione e ha detto guardate che l'applicazione del 614 bis, i danni punitivi, non è applicabile a quelli che sono gli inadempimenti di natura economica. Adesso, con l'intervento del legislatore, queste preclusioni sono state superate e il potere del giudice sotto questo profilo è stato molto ampliato. In primis perché il giudice può intervenire di ufficio laddove si tratti di interessi che riguardano il minore, quindi inadempimenti sotto il profilo di natura economica ma anche relazionale che riguardano i minori. E questa è una grossa novità in genere di tutta la riforma cartabbia, perché anche quelle che possono essere le preclusioni in ordine della produzione documentali e delle parti possono essere sempre superate con l'intervento del giudice che semplicemente può dire guardate che qui parliamo di diritti di minori, diritti indisponibili e quindi superiamo qualsiasi altra preclusione perché se c'era necessità di introdurre nuovi elementi, introdurre nuovi documenti, lo possiamo fare. Quindi partiamo dal presupposto che questa riforma amplia tantissimo il potere del giudice. In questo caso addirittura concedendo la possibilità di prevedere delle sanzioni cumulative, nel senso una non esclude l'altra, vale a dire ammonire il genitore inadempiente. Qui l'ammonimento esisteva anche nel 709 terre e poi il valore probabilmente dell'ammonimento è un valore relativo. Laddove invece al comma 2 si evidenzia in tutta la sua interezza quella che è l'estensione di questo potere, perché la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva. E qui dobbiamo stare attenti in quanto che vuol dire ogni violazione o inosservanza successiva? Intanto significa che c'è già un procedimento in corso o c'è già stato un procedimento in corso. Ma per violazione o inosservanza successiva si può intendere anche, non precisamente, ma anche genericamente, qualunque comportamento della parte che ostacoli l'esercizio della responsabilità genitoriale dell'altro. Che significa questo? Che ci possono essere dei comportamenti anche abbastanza opinabili, cioè non accertati o comunque non accertati in quel momento, che secondo il giudice di merito rappresentano comunque delle violazioni oppure dei comportamenti ostativi al corretto esercizio della responsabilità genitoriale dell'altro. E in teoria anche questi possono essere sanzionati. Quindi non si tratta soltanto del classico caso di inadempimento del genitore che riporta più tardi o il giorno dopo il figlio, quindi violando un provvedimento precedente del giudice. Si tratta di considerazioni che poi possono creare problemi in sede di esecuzione. Infatti il lavoro del giudice dell'esecuzione è un lavoro molto complesso. Perché se c'è stato un presunto inadempimento, pensate a una riconsegna di un bambino, e l'altra parte allora ricorre subito, per quanto riguarda l'applicazione dei provvedimenti di cui la 473, la controparte comincerà a rispondere, faccio un esempio, il bambino aveva la febbre, un'altra motivazione, abbiamo fatto tardi per il traffico, non sapevo questo, non sapevo quest'altro. Quindi c'è anche da approfondire questo problema, cioè cercare di capire se poi questo strumento è uno strumento deflattivo o non del contenzioso. E questo è un altro tema che ci siamo posti, c'eravamo posti anche con il 709 TR, e poi abbiamo scoperto che non era uno strumento deflattivo, anzi ha portato a un aumento del contenzioso. Fino ad arrivare a problematiche, addirittura in Cassazione, ne parlavamo l'altro giorno, ho il telefono proprio al professor Cendonna e credo che si sia collegato. Qual è poi la sezione della Corte di Cassazione che si occupa di queste questioni? Quella relativa alla responsabilità civile o la sezione che si occupa di diritto di famiglia. Oltretutto, e questo è scritto anche nella relazione e nei lavori preparatori della norma, la quantificazione di queste sanzioni pecuniarie, quindi sostanzialmente quelle delle lettere B e C, segue comunque dei parametri che sono stabiliti in materia di sanzioni pecuniarie di carattere punitivo. E quindi comunque il giudice nel combinarle deve avere riguardo a una serie di elementi, che sono la gravità della violazione, la reiterazione della condotta, l'intensità dell'elemento soggettivo, attenzione qua, la condizione economica dell'autore dell'illecito. Io qui dico, questo è abbastanza pericoloso, ma meno male, perché è ovvio che una sanzione economica di 100 euro ha un rilievo per chi guadagna 1000 euro e ha un diverso rilievo per chi ne guadagna 10.000 al mese. Altro elemento, attenzione anche qui, è il danno prodotto o potenziale. Danno prodotto o potenziale significa che ancora non siamo completamente al di fuori della nostra logica giuridica che ci suggerisce, anzi ci impone, di collegare il danno, la sanzione all'effetto in capo alla vittima, cosa che invece è un concetto che è stato comunque superato nel diritto anglosassone. Ancora noi per formamentis, per cultura, per storia giuridica, ancora siamo un po' ancorati a questo concetto, eppure questo è un tema di discussione molto importante. Altro elemento del quale deve tenere in considerazione il giudice è l'effetto conseguito a favore dell'autore della violazione, cioè che cosa ci ha guadagnato di fatto l'autore della violazione. Ultimo parametro è il complessivo apparato rimediale e possibilità di cumulo delle misure coercitive. Oggi sostanzialmente, a parte gli interventi, io credo che l'interesse fondamentale sia quello di stabilire e alimentare anche un dibattito. Oggi abbiamo avvocati, giuristi, magistrati, professori universitari. Quindi io credo che questo sia il tema fondamentale. Non vado oltre proprio per non, come si dice, rubare la relazione agli altri relatori, però mi riservo alla fine del convegno, quando lasceremo spazio alle domande, di formulare dei suggerimenti a un ipotetico legislatore, io dico sempre non sufficientemente preparato, perché probabilmente non sufficientemente sul campo, come dico io, però questi suggerimenti credo che debbano venire proprio da queste aule, perché se non si ascoltano i magistrati, se non si ascoltano gli avvocati, dei professori universitari, intendo i professori universitari che vanno in tribunale, poi magari quelli che fanno solo la teoria, no. Però siccome ci sono anche tanti spunti critici, io ne vorrei parlare oggi dopo aver anche ascoltato le altre relazioni. Quindi ringrazio tutti i colleghi, ringrazio anche i relatori che hanno accolto il nostro invito e il Consiglio dell'Ordine. Grazie. Grazie. Io spero un'altra riforma, no, aiuto. Sì, esatto. No, un'altra riforma, no. Dobbiamo digerire ancora questa. Dobbiamo digerire e distruggere. Dobbiamo distruggere perché, no, non è tutto da buttare. Io invece sono molto, devo dire, sì certo, comunque ti ringraziamo veramente, hai dato una visione generale. Adesso io do la parola a Matteo, l'unico avvocato presente, però devo dire che questa riforma non è vero che non ha ascoltato gli avvocati, perché gli avvocati erano presenti, erano essi giuristi, avvocati e magistrati. Forse qualcosa gli è sfuggito, qualcosa gli è sfuggito anche di mano. Diciamo che ci sono anche parecchi errori materiali, che infatti l'Ordine aveva ammesso apposta a una, mi sembra che si chiami segnalazione, punto, ordine avvocati, proprio per, se ne sono arrivate parecchie di errori che si sono stati rilevati all'interno di questa ultima riforma. L'unica fortuna che abbiamo è che noi avvocati facciamo bella figura con poco, perché sempre il 473 è, e quindi alla fine diciamo, ops, no, è il 38, no, forse è il 39 bis, e quindi diciamo che in questo siamo agevolati, facciamo bella figura con i nostri assistiti. Però detto questo, adesso passo la parola all'avvocato Pompiglia Rossi, amica e, oltre che, insomma, tutti è conosciuta per la sua professionalità e la competenza, e, peraltro, è anche professore, professoressa, diritto di famiglia alla Università Lewis. E approfondirà l'argomento del risarcimento, no? Quindi del... Risarcimento. Risarcimento. E violazione di fedeltà che dicevamo con la collega che diciamo questo illustre sconosciuto. E quindi vi lascio. Prego. Grazie. Intanto ringrazio l'ordine, ovviamente, sia la collega Anastasio che poi il collega Santini. Ringrazio i colleghi che con queste intemperie sono riusciti ad arrivare a Piazza Capur e saluto tutti i presenti che sono, nella maggior parte, magistrati. Quindi è molto interessante oggi avere anche un confronto proprio con voi, anche perché spesso, come dire, ci confrontiamo tra di noi e manca spesso proprio la persona che sta dall'altra parte sempre della scrivania per noi, anche se è una scrivania che noi riteniamo dover essere circolare, no? Quindi con un rapporto diretto continuo. Allora, il collega Santini ha introdotto un po' i lavori di questo pomeriggio. Quando sono stata invitata a questo convegno e non come al solito il collega Santini e la collega Anastasio lasciano sempre molto liberi i relatori di decidere il tipo di intervento, mi sono posta a questo problema. Di cosa devo parlare, no? Sono l'unico avvocato qua presente in questo contesto. Sinceramente non volevo neanche tanto toccare l'argomento pro o contro la riforma cartabia. Ce l'abbiamo, dobbiamo lavorarci. Probabilmente saremo anche noi fautori di una modifica costruttiva, ovviamente, della norma. E allora ho pensato ad un argomento che, devo dire, riguarda soprattutto noi avvocati però riguarda anche i magistrati. Per noi avvocati più nella quotidianità, per i magistrati forse è un elemento che ormai è desueto, no? Cioè, quando si parla di addebitabilità della separazione per violazione del dovere di fedeltà. Perché dico un po' desueto per i magistrati? Perché non voglio parlare dei fori rappresentati qui però, per esempio, per quanto riguarda il nostro tribunale i mezzi istruttori che noi articoliamo e, come sappiamo, con la riforma cartabia va articolato tutto in tempi assolutamente frettolosi e anticipatori e nella maggior parte dei casi il discorso della debitabilità non viene molto preso in considerazione. Devo dire che spesso è anche colpa di noi avvocati che non diamo quelli che sono gli elementi al giudice necessari per poter comprendere se realmente la violazione di quel dovere può essere stata l'esclusiva causa della intollerabilità della convivenza, no? A volte lo diamo un po' per scontato ma non articoliamo adeguatamente l'attività istruttoria sul fatto che quella coppia aveva una vita un progetto di vita ben consolidato non vi era nessuna crisi e quindi la violazione del dovere di fedeltà diventa l'esclusivo nesso causale con la intollerabilità della convivenza. Quindi la prima cosa che, come dire, noi dovremmo fare è proprio questa, no? Però malgrado questo l'altro, diciamo, il problema, lo scoglio che noi abbiamo come difensori è quello di far comprendere all'autorità giudiziaria che questa coppia che si presenta davanti all'autorità giudiziaria e che uno dei due si è presentato nei nostri studi per mesi prima dell'udienza ha avuto uno sconvolgimento della propria vita magari proprio per quella violazione del dovere di fedeltà, no? Adesso ne stiamo parlando con la collega siamo avversari di una causa in cui c'è questo elemento tra l'altro un elemento neanche che possiamo prendere in considerazione perché la coppia non è coniugata ma una coppia di fatto però nelle coppie quando arrivano nel nostro studio non è che possiamo dire sì, signora o signore però adesso vediamo mi faccia capire c'era una crisi tra di voi che cosa è accaduto no, loro sono assolutamente come dire sconvolti dalla loro esperienza quindi la difficoltà che noi abbiamo è quello di far comprendere all'autorità giudiziaria che noi in primis abbiamo una difficoltà sull'articolazione dei mezzi istruttori sulla depitabilità della separazione con esclusivo nesso causale derivante dal dovere di fedeltà ciò detto l'altro elemento e qui veniamo al discorso per cui siamo qui oggi l'errore che spesso facciamo è quello di direttamente collegare alla violazione del dovere di fedeltà dovere appunto derivante dal matrimonio precisiamolo non dalla convivenza ma soltanto dal matrimonio come elemento che porti con una sorta di automatismo alla risarcibilità del danno anche questo è un grande errore che noi vedete voi giudici noi avvocati ci rendiamo conto degli errori che facciamo siamo i primi come dire a porci in discussione perché questo? perché sul discorso della debitabilità della separazione ormai è inutile parlare della giurisprudenza la conosciamo tutti ci deve essere la prova proprio rigorosa della violazione del dovere di fedeltà con un diretto ed esclusivo onnesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza però non è sufficiente questo ad originare la risarcibilità del danno e anche in questo devo dire collegandomi anche a quello che ha detto il collega Santini vi è stato un superamento della concezione tradizionale dei doveri coniugali e intesi con una efficacia giuridica che non è sanzionabile soltanto con i rimedi tipici del diritto di famiglia si è parlato molto del 709 ter mi verrebbe da dire una modifica delle condizioni un provvedimento sulla responsabilità genitoriale limitativo insomma noi conosciamo quelli che sono i rimedi tipici non voglio assolutamente tediare chi ci ascolta quindi è stata un po' scalfita questa impermeabilità del binobio famiglia responsabilità civile come ha detto giustamente il collega Santini quindi anche tutto ciò che attiene alla famiglia può essere sottoposta a quelle che sono le comuni regole della responsabilità civile ma ci deve essere appunto qualcosa in più sempre collegato a quello che noi stiamo dicendo come dovere di fedeltà e la violazione del dovere di fedeltà dove scatta l'elemento della risarcibilità del danno nel momento in cui si va a violare un diritto costituzionalmente garantito quindi non c'è alcun automatismo non c'è l'automatismo della violazione del dovere di fedeltà ma non c'è neanche un automatismo rispetto alla prova rigorosa che quella violazione del dovere di fedeltà abbia un esclusivo nesso causale con l'intollerabilità della convivenza questo può portare ad una declaratoria di addebitabilità della separazione quindi la parte riesce a dimostrare che la violazione di quel dovere derivante del matrimonio nella fattispecie dovere di fedeltà è da ascriversi come unica ed esclusiva e diretta causa della intollerabilità quindi questo è il presupposto però soltanto della addebitabilità della separazione ma non è detto che l'addebitabilità della separazione comporti come diretta conseguenza la risarcibilità del danno ecco questo deve essere molto chiaro magari insomma chi è qui ha chiaro però spesso questi errori vengono fatti no? li facciamo negli atti no? questo un po' di confusione un po' anche di dare appunto un rilievo di automatismo che noi sappiamo benissimo che nei processi di famiglia non c'è e né deve esserci del resto quindi quando si va a violare questo diritto fondamentale di rango costituzionale no? ecco e su questo la giurisprudenza ci aiuta intanto ci dice che questa violazione del diritto di rango costituzionale porta ad una risarcibilità del danno come danno non patrimoniale e qui abbiamo le sentenze le famose sentenze di San Martino vengono chiamate che sono due delle sezioni unite un po' datate dell'11 novembre 2008 una 26972 e 26975 non sto a tediarvi con il contenuto anche perché sono 80 pagine vi invito a leggerla anche per non far perdere come dire il tempo prezioso agli altri relatori però queste cassazioni delle sentenze di San Martino ci danno la qualificazione del danno non patrimoniale o meglio ci dicono quando il danno non patrimoniale è risarcibile e parla proprio in una parte della sentenza quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona come tali oggetto di diritto costituzionale in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi quali sono questi diritti costituzionalmente di rango costituzionale sono la degnità della persona il diritto alla salute ma non è sufficiente neanche questo per la risarcibilità ecco quindi non è automatico con la declaratoria di addebitabilità non è neanche automatico la violazione diciamo appunto di un comportamento che va a ledere la dignità della persona e va a ledere anche il diritto alla salute ma deve essere un comportamento e questo sempre la Cassazione Assessuale Unite ce lo dice di particolare gravità in quanto posta in essere con modalità insultante ingiuriosa ed offessiva oppure con e questo ovviamente quasi scontato con comportamenti violenti intimidatori e rappresentando questo ovviamente però delle fattispecie di reato quindi è chiaro che la debitabilità non comporta automaticamente la risarcibilità del danno perché perché vi è la necessità di questa violazione di un comportamento così grave che va a violare diritti costituzionalmente garantiti c'è un altro elemento a mio avviso fondamentale trattando di questo perché l'altro errore che viene spesso fatto ma proprio da noi avvocati io sempre un'autocritica qual è? beh insomma adesso finalmente abbiamo raggiunto un accordo sulla separazione o addirittura neanche abbiamo parlato di separazione con declaratorie di debitabilità di responsabilità ma siamo arrivati ad un ad un accordo allora si dice ovviamente con la separazione consensuale con l'accordo sulle condizioni non è pensabile che si possa arrivare ad una risarcibilità del danno ecco benissimo questo è un grande errore perché la Cassazione ha detto chiaramente che anche in presenza di una separazione dove non vi è nessuna richiesta di addebitabilità oppure una separazione in cui vi è stata una rinunzia a questa domanda nel corso del giudizio non è detto che non comporti la possibilità di pervenire ad una richiesta di risarcibilità del danno e vi voglio indicare la Cassazione che lo lo dice scusatemi allora è la Cassazione del 2011 confermata da una Cassazione del 2020 15 settembre 2011 numero 18853 dove si dice che praticamente non vi è la pregiudizialità tra i giudizi di separazione sia con addebito sia senza addebito sia separazione consensuale con il giudizio di richiesta di risarcimento del danno l'importante è che vi siano all'interno di questo giudizio del risarcimento del danno portati dei fatti che possano che rappresentano i presupposti per la risarcibilità e allora qui si pone a mio modesto poi l'altra Cassazione scusate termino è una Cassazione sempre questa era della prima che vi ho detto questa è della sesta del 19 novembre 2020 numero 26383 quindi queste sono le Cassazioni un po' che riprendono ovviamente dal 2011 al 2020 immagino che ci sia stata una giurisprudenza costante insomma no e quindi anche i giudici di merito si sono si sono adeguati però il problema a questo punto è termino il mio intervento perché altrimenti rubo troppo tempo c'è un altro elemento importante che è quello del giudicato esterno cioè a questo punto le parti hanno raggiunto un accordo oppure vi è stata la sentenza anzi parliamo di questo che è più calzante una sentenza di separazione la sentenza di separazione con con addebito o senza addebito a quel punto il giudicato di questa sentenza di separazione perché il problema del simultaneo processo ce l'abbiamo ce l'abbiamo tuttora nella normativa cartabbia no parliamoci chiaramente non è che l'abbiamo risolto di solito si svolge prima il giudizio di separazione poi si svolge il giudizio di risarcimento qual è il problema del giudicato esterno cioè la persona che ha provato la violazione dei doveri derivanti del matrimonio come presupposto diciamo di addebitabilità della separazione può evitare di provare quegli stessi fatti all'interno del giudizio di risarcibilità del danno sì perché il giudicato esterno copre tutti quei fatti che hanno costituito il presupposto della decisione dell'autorità giudiziaria quindi la persona danneggiata che si ritiene danneggiata e che vuole promuovere il giudizio di risarcimento del danno derivante appunto dalla separazione può tranquillamente evitare non ha l'onere probatorio di riproporre gli stessi mezzi istruttori io ritengo vedo che qui la collega mi guarda come per dire hai terminato e quindi ho terminato io vi ringrazio non mi fare così cattiva no no grazie 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 come al solito sempre puntuale precisa circostanziata e quindi noi ti ringraziamo perché andiamo a vedere queste anche queste sentenze che mi sembrano molto interessanti e il nome diciamo che ci riporta antica memoria perché San Martino è famoso dell'88 ma sono quelle allora io adesso invito i relatori così perché è sempre brutto interrompere e dico io vi scandisco il tempo in 15 minuti anche se 15-20 perché dobbiamo chiudere intorno insomma alle 17 e siete tantissimi e io sono veramente curiosa di ascoltarvi e passo la parola al dottore Alberto Barbazza che fa parte dell'ufficio studi e documentazione del consiglio superiore della magistratura prego buongiorno innanzitutto grazie grazie molte al professor Santini che mi ha invitato all'ordine di Roma che ha organizzato questo convegno molto opportunamente su un tema una tematica che non spesso viene affrontata vi lancio subito una piccola provocazione o meglio una piccola notizia sperando che non spariti nessuno il decreto correttivo della carattere di civile verrà approvato a febbraio quindi tutti questi refusi tutti questi difetti di coordinamento dovrebbero perché non ho ancora visto il testo che licenzierà anche se lo sto già scrivendo l'ufficio legislativo posso dire che siamo a disposizione come ordine perché abbiamo delle segnalazioni posso dire che siamo a disposizione come ordine perché abbiamo delle segnalazioni altre evidentemente se ritenete noi siamo ovviamente questa è una cosa dell'ufficio legislativo del ministero a noi come consiglio superiore arriva successivamente quando è già stato scritto prima dell'approvazione perché possiamo fare le nostre osservazioni e richiedere casomai dei correttivi sul testo prima dell'approvazione comunque le tempistiche sono quelle tra non molto che ci ha comunicato il ministero quindi fra poco ci sarà questo correttivo mi ha molto mi ha molto stuzzicato la relazione della professoressa partendo proprio dall'aspetto degli illeciti collegati alla violazione dell'obbligo di fedeltà e in particolare nei casi in cui ci sia stato un addebito io sono al consiglio superiore da ottobre prima mi sono occupato per 10 anni di diritto di famiglia nel tribunale di Treviso quindi me lo ricordo molto meglio quello di quello che sto facendo adesso devo dire anche che è molto l'addebito come figura era una figura molto contestata anche dai magistrati tant'è vero che nella riforma cartabia la si voleva eliminare come figura quella dell'addebito poi ci sono state delle resistenze politiche ma il primo progetto di riforma cartabia prevedeva l'eliminazione di questa figura però ripercorrerò lo stesso iter logico che ha ripercorso la professoressa quindi andando prima di tutto a vedere da cosa sorge l'illecito per il quale poi noi chiediamo l'adempimento o comunque chiediamo quali strumenti abbiamo a disposizione per poter reagire contro il caso di inadempimento e allora che illeciti abbiamo a che fare all'interno del diritto di famiglia abbiamo essenzialmente a che fare con il cosiddetto illecito endofamiliare l'ecito endofamiliare che è quello illecito che si riferisce a dei comportamenti illeciti che sono tenuti da un componente della famiglia nei confronti di un soggetto dello stesso nucleo familiare non ho mai parlato di coniugi non ho mai parlato di un rapporto di coniugio perché in realtà gli illeciti endofamiliari non sorgono forse concettualmente in relazione alla famiglia costruita sul matrimonio ma si adattano benissimo e sono assolutamente applicabili anche nel caso delle unioni civili e nei casi delle convivenze moruxorio e allora noi abbiamo dobbiamo facendo un piccolo escursus va ricordato che l'illecito endofamiliare non ha mai trovato una precisa collocazione all'interno dell'ordinamento e anche l'emersione di questa figura è sempre stata molto contesa è sempre stata molto contesa in tempi recenti parliamo del 2015 le ultime sentenze della Cassazione che non sono favorevoli a questa figura di illecito perché innanzitutto per il valore che veniva assegnato all'unità familiare nel suo complesso quindi un retaggio storico di questo tipo che invece si sta col tempo sta avvenendo meno e poi perché perché l'articolo 143 del codice civile ci dice che con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri allora noi abbiamo sostanzialmente due tipi di illecito due macro aree di illecito endofamiliare quella tenuta da un soggetto nei confronti dell'altro all'interno di un rapporto di matrimonio o comunque di un rapporto di coppia e quello tenuto dai genitori nei confronti dei figli sostanzialmente allora se noi leggiamo il 143 in riferimento alla lesione dei rapporti fra le due parti della coppia il 143 ci parla di doveri non di obblighi e parte della giurisprudenza e anche della dottrina avevano sempre ritenuto di far sì che questo concetto di dovere implicasse che non c'era un contenuto giuridico violato e che quindi di conseguenza non potevano essere coercibili le violazioni di questi doveri che si instauravano fra le parti anche le sanzioni si diceva che anche le sanzioni previste erano tipizzate all'interno dell'ordinamento di famiglia e quindi si vedeva difficilmente e si vede ancora oggi in maniera molto difficile la possibilità di andare a ricercare il risarcimento dell'illecito al di fuori del sistema costruito per il diritto di famiglia che si voleva come un sistema chiuso come un sistema che già prevedeva le sue sanzioni che già prevedeva i suoi rimedi quali potevano essere la debito per esempio l'ordine di protezione sono per esempio il vecchio 709.3 oggi il 473 abisso 39 e quindi una struttura che si voleva chiusa e ancora oggi questo è alla base di quel concetto su una tematica molto affascinante che però è stata solo sfiorata anche dal professor Santini prima della possibilità di cumulo delle domande della possibilità del cumulo nello stesso processo della domanda di famiglia e della domanda di risarcimento del danno sulla quale non entro adesso perché andremo molto lontano però personalmente in relazione al risarcimento del danno dell'ecito familiare secondo me con la riforma cartabile ci sono delle spunti e delle aperture e delle aperture per poterle ammettere cosa che generalmente viene sempre ritenuta invece inammissibile e allora da questo carattere non giuridico come vi dicevo derivava anche la possibilità di escludere un'esecuzione in forma specifica degli obblighi nascenti del matrimonio e lo dirò subito visto anche che poi vi ho poco tempo e se comincio a parlare a ruota libera ne spreco troppo lo dirò subito l'esecuzione in forma specifica di un provvedimento è una cosa che nel diritto di famiglia andrà sempre evitata andrà sempre evitata per quelle che sono le conseguenze sui soggetti della famiglia sui minori prima di tutto perché l'esecuzione in forma specifica è possibile nel diritto di famiglia certo che è possibile è possibile come si attua con i carabinieri che vanno a prendere il bambino e lo portano dal genitore che avrebbe diritto di vederlo e non lo vede ma arrivare a questo vuol dire avere una avere la mancanza di consapevolezza di quello che si crea all'interno del minore e all'interno di quei soggetti che in quel momento vedono attuare in questo modo i provvedimenti e allora cosa residua se non è possibile l'esecuzione diretta del provvedimento residua l'esecuzione indiretta ed ecco che arriviamo in questo modo al sistema di esecuzione indiretta che è presente all'interno del nostro ordinamento il sistema di esecuzione indiretta che sostanzialmente come è già stato detto molto bene si ricollega a due norme specifiche il 614 bis e una volta 709 e oggi il 473 bis il 739 ma ci arriverò alla fine per due considerazioni molto veloci perché sono già state approfondite dicevamo l'illecito endofamiliare si riconduce a queste due grandi macro aree illecito di un soggetto nei confronti dell'altro all'interno di un rapporto di coppia come detto non parlo espressamente di rapporto di coniugio proprio per questo e l'altra grande macro aree è quella dell'illecito di soggetti legati da un rapporto di genitorialità dicevamo e ha detto prima la professoressa molto bene il più grande il più grande caso di illecito endofamiliare all'interno del rapporto tra i soggetti di una coppia è quello della violazione dell'obbligo di fedeltà quello della violazione dell'obbligo di fedeltà che poi si traduce e si deve tradurre sempre in quei comportamenti è già stato detto che ledono un diritto costituzionalmente garantito del partner quali sono questi diritti costituzionalmente garantiti possono essere la reputazione solitamente è il primo diritto che viene in considerazione ma può essere anche la salute e questo come impatta impatta sul tipo di danno che verrà chiesto perché se è una lesione della salute che genera da un illecito endofamiliare cosa chiederò chiederò risarcimento del danno biologico perché è una lesione della salute una lesione della salute che devo medicalmente accertare in tutti gli altri casi invece sostanzialmente cosa andrò chiede andrò chiede risarcimento di un danno che sostanzialmente è riconducibile nell'area del danno morale e quindi con tutta la necessità di prova come è stato detto sono assolutamente d'accordo di prova di tutti gli elementi che costituiscono questo illecito perché sempre di illecito extracontrattuale stiamo parlando lo possiamo chiamare illecito endofamiliare ma sempre nell'area dell'illecito aquiliano ci troviamo e quindi chi agisce cosa deve provare e deve provare che la lesione sia la conseguenza del comportamento che ha tenuto il conige che ha causato il danno e come deve provarlo deve provarlo secondo il noto criterio della secondo il criterio della regolarità causale già verso questo criterio deve ragionevolmente far provare al giù far ritenere al giudice che all'interno di quell'area ci stiamo sempre promuovendo ma non è l'unico attenzione non è l'unico tipo di illecito quello di violazione dell'obbligo di fedeltà che possiamo vedere all'interno della macroarea illecito endofamiliari fra soggetti della coppia per esempio ma abbiamo pochissimo tempo è stato anche appurata la violazione dell'obbligo di lealtà prematrimoniale quindi non fedeltà ovviamente perché non abbiamo un obbligo di fedeltà ma questa violazione dell'obbligo di lealtà prematrimoniale che ha riconosciuto la Cassazione può essere fonte di responsabilità può essere fonte di responsabilità anche in questo caso perché perché dobbiamo sempre porci nell'ottica di dire non è il rapporto che crea il danno ma è la lesione del rapporto fondamentale all'interno di due soggetti e quindi non è il matrimonio la fonte del il matrimonio la violazione dell'obbligo di fedeltà ma è la violazione di quell'obbligo di lealtà in questo caso che c'è fra due soggetti che possono anche non essere legati dal matrimonio e allora e allora in quel caso erano due soggetti che non avevano ancora contratto matrimonio ma lo stesso è assolutamente adattabile al concetto di una coppia di fatto e lo stesso è assolutamente adattabile al concetto delle unioni familiari anche se abbiamo un grandissimo problema poi andremo veramente lontani e cioè nelle unioni noi abbiamo espressamente il legislatore che ha voluto non attribuire all'interno dell'unione l'obbligo di realtà fra le parti o comunque non l'ha ricopreso ma qua andremo veramente molto lontano l'altro grande ambito è quello come vi dicevo dell'illecito endofamiliare nel rapporto fra genitori e figli e qui dove lo ritroviamo per esempio beh lo ritroviamo chiarissimo in tutti quei casi in cui c'è un disinteresse che viene mostrato da un genitore nei confronti di un figlio per esempio nei casi in cui non c'è stato riconoscimento del figlio da parte del genitore e il figlio chi dà il risarcimento del danno per questo comportamento del genitore certo devono essere dimostrati e qua la prova è veramente difficile tutte le serie di elementi che costituiscono i presupposti per il risarcimento del danno e da cosa nasce abbiamo visto il 143 da un lato nel rapporto fra genitore e figli abbiamo il 147 e il 148 del codice civile che sono le norme fondamentali in materia di rapporto fra genitori e figli e che fanno sì che la giurisprudenza di legittimità consideri come eziologicamente connesso alla procreazione l'obbligo che grava sui genitori di mantenere istruire ed educare i figli e di conseguenza la violazione di quest'obbligo che può portare al risarcimento del danno concludo velocemente ma fatemi dire al volo due cose come vi dicevo sulle conseguenze e i rimedi per l'inadempimento i rimedi per l'inadempimento prima erano rimesse come vi dicevo due norme il 614 bis e il 709 ter oggi vengono accorpate all'interno del 473 bis a 39 è rimasto ovviamente il 614 bis ci bastano queste norme per l'esecuzione indiretta di questi provvedimenti no non ci bastano ce l'ha detto chiaramente pochi mesi fa la CEDU la CEDU ci ha detto chiaramente che non bastano per tutelare l'articolo 8 questi strumenti e cosa fa la CEDU semplicemente mette in more il nostro legislatore dicendo non che è colpa dei giudici o degli avvocati ma semplicemente dicendo che lo Stato italiano non ha in questo momento degli strumenti adeguati per tutelare in via indiretta questi beni questi beni della vita questi diritti e cosa abbiamo noi il 473 bis 39 che però gli stessi problemi che aveva il 709 terra e che aveva il 614 bis uno è stato già detto ed è stato detto benissimo credo dal professor Santini prima e cioè il 614 bis formulato sul tema della strength quindi sulla falsariga dell'istituto francese della strength dove è sorto ma che problema grosso sconta sconta il problema del fatto che imporre una somma di denaro a un soggetto solitamente fa sì che nella maggior parte dei rapporti di questo tipo in cui ci sono questi problemi sia assolutamente irrilevante sia assolutamente irrilevante perché se io impongo una somma di denaro a un soggetto che è ricchissimo non gli interesserà niente e se io impongo una somma di denaro a un soggetto che non ha nulla o che è poverissimo allo stesso modo non gli interesserà nulla di pagarla quindi è solamente in limitatissimi i casi che la strength può funzionare può funzionare sì può funzionare in alcuni casi io l'ho data ed è stato un ottimo deterrente ma solamente in quei casi in cui i genitori hanno un occhio per gli aspetti economici quindi in cui non siamo nei due estremi e l'altro grosso problema del 614 bis qual è? è quello della tipizzazione della sanzione il 614 bis è una sanzione lo dicevamo prima è un'ottica sanzionatoria che lo poniamo non in un'ottica risarcitoria e se lo poniamo in un'ottica sanzionatoria io ho fatto ho rimesso alla Corte Costituzionale l'ultimo comodo del 709 ter qualche anno fa poi la Corte Costituzionale si è espressa su quella norma ed è lo stesso problema che scontra il 614 bis la necessità di tipizzazione delle sanzioni cosa vuol dire? vuol dire che io come giudice devo ricollegare quel 614 bis a un comportamento tipizzato all'interno di quella situazione familiare che ho davanti però il grosso problema è che i modi di trasgredire gli ordini sono tantissimi e sono i più diversi nella pratica per cui se il mio 614 bis è collegato al fatto che il soggetto deve portare i figli dell'altro genitore entro le ore 18 o meglio deve portarlo nei giorni che sono indicati beh se nei giorni che sono indicati sono indicati precisamente le ore beh allora forse ci possiamo stare ma se non sono indicate precisamente a quel punto uno lo porta 5 minuti prima o 5 minuti dopo e non è più non rientriamo più nella sanzione tipica quindi deve essere tassativamente indicato in maniera perfetta il comportamento al quale ricolleghiamo la sanzione del 614 bis sul 793 non ho tempo vi ringrazio e aspetto grazie a lei ma la rinvitiamo assolutamente questo è un tema che dobbiamo approfondire oggi è stato diciamo un primo approccio ma ci ritorneremo e la ringraziamo perché lei ci promette che torna vero? ci promette che torna ve lo assicuro bene allora adesso che sono a 11 allora si non ha più scusante allora a questo punto passo la parola a Francesco Maria Ciaralli che è giudice del Tribunale di Tivoli grazie allora sempre tempi più ristretti possibili perché io voglio dare la parola a tutti grazie allora cercherò di essere sintetico ringrazio l'ordine il professor Santini per questo invito allora io mi vorrei soffermare specificamente sull'applicabilità e diciamo il perimetro i limiti di applicazione dell'articolo 614 bis alle peculiarità del diritto di famiglia è un argomento che è stato più volte sfiorato nell'ambito di inquadramenti complessivi e che quindi si merita un approfondimento ovviamente nel poco tempo a disposizione che vada in profondità sulla misura compulsoria che connota la strength io userò il lemma francese non per esterofilia ma perché consente sinteticamente di riferirci a qualcosa che in italiano avrebbe bisogno di una perifrasi per essere indicato è una misura antichissima l'origine risale nel 1811 in francia il tribunale di cre proprio in un'ipotesi di danno all'onore di una persona stabilì in una sentenza condannò il convenuto alla pubblica ritrattazione dell'offesa che aveva fatto stabilendo la pena privata di tre franchi al giorno in caso di ritardo nella ritrattazione e gli ordinamenti europei con cui ci confrontiamo declinano la strength anche per quanto riguarda il diritto di famiglia in modo molto differente gli uni dagli altri in Germania e nel Regno Unito nel Regno Unito specificamente in Inghilterra e Galles la strength è una misura che non si paga all'altra parte ma si paga allo Stato qui noi abbiamo la sanzione quella che varia da 75 a 5 mila euro che si paga alla Cassa delle Ammende poi invece abbiamo la strength che si paga all'altra parte e quindi questi ordinamenti sia continentali la Germania sia di Common Law il Regno Unito invece prevedono la strength come una misura che serve a tutelare si dice in Germania il prestigio della decisione del giudice a fronte di un'inadempienza a fronte di violazioni successive e il prestigio della decisione si tutela con una condanna al pagamento di una somma di denaro a un ente pubblico in Francia come in Italia invece si paga all'altra parte la Cassazione francese si è più volte espressa nel senso dell'accumulabilità del risarcimento del danno e della strength anche nell'ambito dei processi di famiglia perché sono misure che hanno una funzione differente come sappiamo il risarcimento del danno è volto a collocare il danneggiato si dice nella medesima curva di indifferenza in cui si trovava prima è volto a rimediare a riparare alle conseguenze dannose di un fatto illecito la strength serve da un lato a sanzionare una violazione di un ordine del giudice dall'altro lato si dice una misura compulsoria perché è volta a stimolare l'adempimento dell'altra parte è una specie per evocare una categoria che è stata ampiamente studiata negli Stati Uniti è una specie di nudging cioè è una spinta gentile più o meno gentile diciamo a seconda dei casi volta a stimolare la parte inadempiente e invece ad adempiere e perché nel diritto di famiglia con tutti i caveat che sono stati indicati prima questa misura di quell'articolo 614 bis testualmente richiamata anche dal nostro articolo 473 bis punto 39 può avere uno spessore particolare perché nel diritto di famiglia molto di più che nelle altre occasioni di contatto intersoggettive che di solito nascono nell'ambito di rapporti di carattere economico è indispensabile la collaborazione dell'altra parte in un rapporto che non si esaurirà in un arco temporale circoscritto e la possibilità che vi siano illeciti di carattere permanente o comunque reiterati nel tempo e che non si possa mai fare a meno della collaborazione dell'altra parte rende quelle che secondo la definizione di Chiovenda erano le misure di surrogazione cioè la possibilità di sostituire alla condotta della parte inadempiente la condotta di un terzo rende impossibili queste misure non ci si può surrogare al genitore che non riporta il figlio quando deve sono necessarie invece quelle misure di coazione quelle spinte gentili che devono indurre la parte inadempiente ad adempiere di questo tiene conto il secondo comma dell'articolo 614 bis riformato dall'ampia riforma del diritto processuale civile che chiamiamo sinteticamente cartabia che ha introdotto e prima non c'era tra i parametri di commisurazione dell'importo della strength il vantaggio che l'altra parte ha avuto a non adempiere per impedire questo una sorta di inadempimento efficiente quello che diceva prima il collega Barbazza che sostanzialmente un genitore inadempiente ricco possa avere convenienza a continuare a non adempiere ecco che la commisurazione della strength deve tenere conto della necessità di superare la possibilità che appunto una parte sia indifferente alle conseguenze del proprio inadempimento inoltre la strength prescinde dal danno quindi è un tema che si inquadra tra quelli che sono in discussione oggi in una misura particolare anche rispetto ai danni punitivi che pure sono evocati nel titolo perché il danno multiplo punitivo presuppone sempre che vi sia un danno la differenza è che l'entità della condanna è svincolata dalla misura della lesione che la parte ha subito può essere svincolata del tutto e questo secondo la Cassazione non è ammissibile nel nostro ordinamento può essere comunque riagganciata e questo è il danno multiplo alla lesione subita la strength invece è totalmente svincolato dalla sussistenza di un danno in senso tecnico e io vorrei in particolar modo individuare il campo di applicazione di questa misura senz'altro che sconta un problema di tassatività nell'ambito di quella spinta collaborativa che è uno dei temi che informano la riforma del diritto di famiglia che è stata da ultimo approvata perché la strength appunto prevenendo la commissione di un danno essendo una misura volta a stimolare una parte all'inadempimento si presta alla prevenzione del danno quindi il principale campo di applicazione di queste misure è in chiave preventiva rispetto alla maturazione di un danno che trattandosi di diritti che non hanno un sostrato materiale sarebbe quasi impossibile da riparare in senso tecnico e soddisfacente quindi in questo senso probabilmente nelle varie forme in cui le misure compulsorie di esecuzione indiretta hanno avuto cittadinanza nel nostro ordinamento pensiamo alla strength consumeristico alla strength previsto nel diritto industriale e il campo del diritto di famiglia è quello in cui emerge con più forza la finalità preventiva rispetto a future produzioni di danno non dimentichiamoci che nel nostro ordinamento diciamo nell'ambito del processo civile a differenza del processo amministrativo la strength si può irrogare in sede di cognizione non solo in sede di ottemperanza nell'ambito amministrativo il nuovo articolo 614 bis prevede la possibilità per il giudice dell'esecuzione di determinare la misura della strength e qui si transita nella parte finale di questo breve intervento che incide su le conseguenze applicative della combinatoria di una misura compulsoria di coazione indiretta volta a stimolare l'altra parte all'adempimento ovviamente queste misure potranno accedere soltanto a delle condanne a degli obblighi sovente appunto di facere o di non facere che siano specifici specificamente indicati e in questo il nuovo articolo 473 bis punto 39 supera un problema che si era posto ormai in una fase più pioneristica dato dal fatto che l'articolo 614 bis prevede la possibilità per il giudice di rogare la strength come misura accessoria alla condanna di un obbligo che non sia il pagamento di una somma di denaro allora si rifletteva all'epoca se si può qualificare come obbligo ad esempio come condanna a un obbligo le misure che vengono adottate nell'ambito del diritto di famiglia i problemi che si pongono in sede esecutiva sono moltissimi e sono collegati in via principale come conseguenza del difetto di passatività al fatto che la strength proviene da un ordine del giudice le possibilità del giudice dell'esecuzione di incidere e del giudice della cognizione in sede di incidente cognitorio che gemma dal processo esecutivo su un ordine del giudice sono limitate questo è un tema che si sa è classico per i decreti ingiuntivi se il titolo è giudiziale in sede di opposizione all'esecuzione non si può far molto quindi il rischio che chiama noi giudici a un'attenzione particolare di specificare bene nei dispositivi dei nostri provvedimenti dove venga combinata una strength per che cosa è combinato è che appunto ci si trovi dinanzi a condanne su cui poi è molto difficile incidere successivamente e che rischino di diciamo slabrare il perimetro in cui è concesso un nuovo incidente cognitorio dopo l'adozione di un provvedimento di condanna concludo solo richiamando l'attenzione a due diciamo inserzioni a due parti che la riforma cartabia aggiunto all'articolo 614 bis in via armonica rispetto a diciamo una linea di maggiore precisione che permea anche altre parti dell'intervento e cioè la necessità di indicare la decorrenza della misura e di indicare l'orizzonte di durata questo onde evitare che si crei una sorta di monstrum di condanna indeterminata senza limiti temporali ad quem che poi è suscettibile anche di un utilizzo strumentale vi ringrazio grazie 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 davvero allora io non mi perdo tempo e passo la parola al professor Cendon grazie di essere qui è collegato prof la regia che ci dice vogliamo sollecitare allora andiamo avanti e do la parola al dottor Gelso e il professore ordinario no scusate giudice tribunale Civitavecchia scusate buonasera grazie ringrazio il consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma per questo invito in particolare il professor Santini con cui diciamo ci siamo scritti e abbiamo concordato anche un po' quello che poteva essere l'intervento per questo incontro cercherò di non sovrappormi non è facile rispetto agli interventi precedenti perché sostanzialmente gli argomenti che sono stati trattati già sono in larga parte stati esaminati da da chi mi ha preceduto però ritengo che il confronto tra magistrati e avvocati sia estremamente utile perché siamo noi quelli che dobbiamo diciamo nella pratica dei tribunali applicare le nuove norme e fare i conti con tutta quella che è stata non solo l'evoluzione giurisprudenziale ma anche l'evoluzione legislativa e in particolare la riforma cartabbia che ha inciso anche su quest'ulteriore argomento e sulla responsabilità nella materia del diritto di famiglia io partirei dall'argomento dei danni punitivi che è un argomento un po' più ampio rispetto a quello che abbiamo trattato finora perché è una categoria che comprende anche le astrent di cui ha parlato precedentemente il collega ma comprende anche tutti quei danni che hanno come abbiamo detto natura di tipo sanzionatoria e natura preventiva questi danni punitivi sono stati introdotti in ordinamenti diversi dal nostro in ordinamenti di common law in particolare statunitense e ordinamento inglese ma hanno trovato ingresso anche nel nostro ordinamento a mio avviso secondo due direttrici fondamentali una prima è l'introduzione di alcune norme del nostro ordinamento non necessariamente del diritto di famiglia in cui sono state inserite delle vere e proprie norme relative ai danni punitivi cioè con danni a pagamento di somme di denaro o nei confronti dello Stato come dicevamo in precedenza pagamento alla Cassa delle Ammende oppure sanzioni civili nei confronti dell'altra parte che esulano però dal modello risarcitorio tipico del diritto civile tra queste disposizioni ricordiamo ad esempio l'articolo 12 della legge sulla stampa che ha previsto la possibilità da parte del giudice di connannare la parte al pagamento alla Cassa delle Ammende in una somma di denaro compresa tra i 500 e i 5.000 euro o altre disposizioni come l'articolo 158 delle norme in materia di diritto d'autore che anche qui hanno previsto la possibilità di combinare sanzioni a titolo di riparazione oltre al risarcimento del danno ma la norma principale nel diritto civile in generale che è stata in qualche modo incisa anche dalla riforma cartabia è l'articolo 96 del codice di procedura civile e cioè la responsabilità aggravata per l'itte temerare di cui già si è parlato in precedenza e in particolare con l'introduzione del quarto comma della legge cartabia è stata prevista la possibilità da parte del giudice di condannare oltre al risarcimento del danno anche la parte al pagamento alla cassa delle ammende di una somma anche qui tra i 500 e i 5.000 euro e su questa disposizione la corte costituzionale si era già pronunciata con una sentenza la 152 del 2016 ritenendo che questa disposizione cioè quella relativa alla lite temerare che costituisce nient'altro che un'ipotesi risarcibile di abuso del processo come abuso del diritto mutuava anche una natura di tipo sanzionatorio quindi oltre alla responsabilità tradizionale risarcitoria era stata introdotta già con l'articolo 96 con la lite temerare a questo tipo di responsabilità quindi oltre alle singole disposizioni a cui noi assistiamo nel diritto civile e quindi non solo nel diritto di famiglia un'altra direttrice in cui c'è stato un ampliamento dal modello tradizionale risarcitorio a quello dei danni punitivi è la giurisprudenza della corte di Cassazione in relazione alla delibazione di sentenze straniere che hanno riguardato la condanna al pagamento di somme da parte di ordinamenti stranieri su questa questione ci sono state una serie di sentenze della Suprema Corte tra cui ne cito alcune la sentenza numero 1183 del 2007 ma anche la successiva sentenza 1781 del 2012 che si erano pronunciate in senso assolutamente contrario all'ammissibilità di questa categoria la categoria dei danni sanzionatori o punitivi all'interno del nostro ordinamento in quanto estraneo al sistema della responsabilità civile come ripristino come abbiamo detto della sfera del danneggiato esattamente nella situazione iniziale in cui il soggetto si trovava prima di aver subito il danno tuttavia con una recente sentenza del 2017 le sezioni unite della corte di Cassazione componendo un contrasto che si era manifestato nella giurisprudenza di legittimità hanno ritenuto invece che non è incompatibile con il nostro ordinamento l'istituto di origine statunitense dei risarciamenti punitivi però hanno posto due limiti principali il primo è quello costituito dalla norma della legge 218 del 95 l'articolo 64 che è quello della compatibilità con l'ordinamento interno cioè i danni punitivi anche combinati in altri ordinamenti per essere delibati da un giudice italiano non devono avere una contrarietà con l'ordine pubblico e l'altro limite è quello proprio della tipizzazione di cui parlava prima il collega Barbazza e cioè la tipizzazione del danno perché nel nostro ordinamento i danni devono avere comunque una base normativa non possono essere diciamo così combinati senza una base normativa e qui appunto ritorniamo al problema dell'articolo 614 bis che invece è una norma di carattere generale dunque parlando dopo queste due diciamo direttrici fondamentali e venendo a quello che invece riguarda direttamente il diritto di famiglia la la corte di Cassazione ci pone un ci dà un impulso ci dà un suggerimento cioè ci parla di polifunzionalità della responsabilità civile cioè si passa da una concezione precedente tecnico ripristinatoria del danno a una concezione etico sanzionatoria cominciamo a ragionare in termini più vicini non solo ad altri ordinamenti stranieri ma anche ad esempio l'ordinamento penale in cui come sappiamo c'è una concezione sanzionatoria punitiva del danno questa apertura nell'ambito del diritto di famiglia aveva già avuto applicazione attraverso alcune norme particolari cioè prima dell'introduzione dell'articolo 709 terra del codice di procedura civile il nostro ordinamento conosceva la disposizione dell'articolo 129 bis del codice civile che prevedeva che in caso annullamento del matrimonio il coniuge in buona fede aveva diritto a una congrua indenità da parte dell'altro coniuge al quale era imputabile la mobilità del matrimonio quindi come vediamo già c'era una sanzione di natura diversa rispetto a quella risarcitoria ma anche altri articoli come ad esempio l'articolo 104 in materia di opposizione al matrimonio quando l'opposizione si rivelava infondata c'era la possibilità di ottenere un risarcimento del danno o per citarne altre il 217 che prevedeva che in caso di amministrazione dei beni della comunione da parte di un coniuge nonostante l'opposizione dell'altro questi potesse rispondere dei danni e della mancata percezione dei frutti da parte dell'altro coniuge queste erano già norme che prevedevano ipotesi di responsabilità che andavano al di là di quello che è il tema tradizionale del risarcimento dei danni endofamiliari ipotesi specifiche di danni previste all'interno dell'ordinamento della famiglia ma quella che è stata la vera e propria svolta e di cui già si è ampiamente parlato è la norma dell'articolo 709 ter del codice di procedura civile rispetto questa norma a mio avviso segna proprio il passaggio e del resto questo ce lo dice la suprema corte di cassazione da una concezione del modello di famiglia come istituzione diciamo così superiore come istituzione un po' estranea a quello che era l'ambito delle parti dei figli a un modello di famiglia comunità modello di famiglia comunità che noi assistiamo anche in tutta quella che è stata l'evoluzione dei danni endofamiliari anche se il risarciamento dei danni endofamiliari come già si è detto in precedenza ha subito un grande ridimensionamento perché nell'ambito delle cause tipiche del diritto di famiglia separazione e divorzio difficilmente la causa la questione di sarcitoria verrà trattata dal giudice della famiglia tradizionalmente i due ambiti sono separati e c'è anche una logica storica nell'ambito di questa separazione perché il giudice della famiglia si deve occupare di tutte quelle che sono le questioni tipicamente della famiglia secondo la debitabilità l'affidamento il collocamento le costruzioni economiche eccetera d'altro canto la questione risarcitoria prevede degli strumenti probatori che sono diversi rispetto all'ambito tipico della famiglia cioè l'avvocato giustamente dovrà introdurre dovrà dimostrare qual è il danno patito dovremmo introdurre eventualmente consulenze di ufficio per verificare se quella persona ha subito un danno morale un danno biologico eccetera e tutto questo ovviamente finirebbe per ritardare quella che è la sentenza di separazione o divorzio è proprio per questo motivo che i danni di natura punitiva o le cosiddette astrenti utilizzando un termine alla francese possono costituire un ambito utile o comunque opportuno nell'ambito del diritto di famiglia questo perché molto spesso le violazioni nell'ambito del diritto di famiglia riguardano violazioni di natura economica come ad esempio il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento o le spese straordinarie da parte di un conigio nei confronti dell'altro ma riguardano anche violazioni che riguardano gli obblighi coniugali e i doveri incombenti sulle parti siano esse parti coniugate o siano conviventi in moruxorio con i relativi danni che può subire il minore dunque sanzionare dei comportamenti violativi degli obblighi di lealtà fedeltà o di rispetto dei doveri dai conugi sicuramente può essere come dire può ottenere un effetto attraverso queste sanzioni che hanno una natura diversa rispetto a quelle tradizionali risarcitorie che però si svilupperanno poi in un altro autonomo giudizio perché come giustamente spiegava la professoressa prima nel caso in cui si forma un giudicato esterno o comunque c'è una sentenza che abbia accertato la violazione dell'addebito è chiaro che la parte abbia diritto a essere risarcita anche per le conseguenze che ha subito per la violazione dell'obbligo di fedeltà dunque sull'articolo 709 ter come è stato già precisato in precedenza alcune disposizioni cioè l'ammonimento e la sanzione della cassa dell'ammende hanno tipicamente natura sanzionatoria viceversa si discute sulle sanzioni risarcitorie sanzioni risarcitorie che come sappiamo possono riguardare i danni nei confronti dell'altro coniuge o i danni nei confronti dei figli qui la dottrina si è sbizzarita ci sono stati diversi testi c'è chi sostiene una natura sanzionatoria pura chi sostiene una natura risarcitoria chi sostiene una natura mista ma quello che è importante è quello che ci ha detto la corte di Cassazione con la sentenza 16.980 del 2018 laddove la corte ha detto chiaramente che questo tipo di disposizione cioè il risarcimento nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 709 ter hanno anche una funzione di natura sanzionatoria oltre che ripristinatoria e questo ha anche delle conseguenze conseguenze non è un discorso diciamo così puramente teorico ma è un discorso che ha delle conseguenze pratiche conseguenze sotto il profilo sostanziale perché da questo determinano quali sono i casi in cui e le ipotesi in cui la norma può trovare applicazione ad esempio gli ambiti tradizionali sono quella della violazione occasionale e non reiterata del diritto del dovere di visita dei figli minori da parte di un genitore in adempimento dell'obbligo di versamento ma anche conseguenze di natura sostanziale sono quelle che riguardano i criteri per individuare il risarcimento del danno proprio perché se si ritiene che questa norma abbia natura sanzionatoria per combinare la sanzione occorre la prova della volontarietà della violazione l'elemento soggettivo dell'illecito quindi il dolo o la colpa grave e la misura deve essere sganciata da quello che è il pregiudizio subito dalla parte ma deve comunque raggiungere le finalità afflittive e sanzionatorie previste dalla norma come correttamente e giustamente è stato detto senza ponendo dei limiti temporali perché altrimenti rischia di venire una norma diciamo così che poi trova applicazione in eterno un'altra questione e mi avvio verso la conclusione perché penso di stare saurendo il termine a mia disposizione è quello che riguarda il giudice competente adottare le misure di cui l'articolo 709 ter queste considerazioni riguardano ovviamente anche a maggior ragione l'articolo 483 bis punto 39 e il giudice competente secondo alcuni sarebbe individuare esclusivamente nel collegio cioè la pronuncia delle sanzioni previste dal 709 ter o dalla nuova disposizione introdotta dalla riforma cartabbia dovrebbe venire in sede di redazione della sentenza da parte del collegio è chiaro che questa tesi è ampiamente superata perché il giudice istruttore deve avere la possibilità di emettere nell'ambito del giudizio di famiglia quelle che sono le sanzioni previste dalla norma e anche perché questo rischierebbe di ritardare la decisione del giudice proprio in un ambito in cui è richiesta una particolare solidità sì e l'ultima cosa che volevo dire è quella che riguarda la legittimazione la proposizione di ricorso ovviamente riguarda non solo il genitore ma anche il curatore speciale del minore qui ovviamente potremmo parlare a lungo esatto si potrebbero aprire diciamo ulteriore questione per cui ringrazio e saluto tutti buonasera grazie veramente io mi scuso però purtroppo il tempo è tiranno e quindi mi riprometto veramente insieme a Matteo di riproporre l'argomento e ovviamente la ecco anche magari in più giornate frammentando un pochino gli interventi quindi siete tutti comunque rinvitati e passo la parola al professor Paolo Cendon che è professor ordinario ditto privato all'università di Trieste grazie di essere qui con noi come sempre vicino all'avvocatura grazie gli passo la parola prof grazie buonasera io ho potuto collegarmi soltanto pochi minuti fa perché ero impegnato in un altro webinar a Torino sulla questione dei fragili quindi non ho potuto sentire le relazioni non sono là tanto però ecco abbiamo dieci minuti a disposizione grazie prof grazie davvero sì sì certo ma lì è rimasto a danni punitivi se penso che oggi se ne parla con tanta naturalezza se penso ai tempi in cui scrissi quel libro sul dolo in cui sembrava che veramente parlare di sanzioni fosse una cosa da fuori legge oggi invece le cose sono andate molto avanti però direi che occorre mantenere comunque una certa distinzione credo che possiamo importare molte cose dal common law ma credo che ci sia un limite che in fondo è molto presente che in giurisprudenza c'è una cosa di immaginare delle poste di carattere afflittivo che vadano oltre la misura del danno una cosa invece è giocare con le possibilità offerte alla funzione sanzionatoria nell'ambito del danno quindi il danno costituisce secondo me in Europa ancora un confine tendenzialmente invalicabile si può fare di più si può condannare l'autore del fatto illecito a dare di più di quanto sia la misura del danno ma utilizzando allora degli strumenti delle voci delle energie diverse da quelle del consapevole civile quindi possiamo parlare di afflittività di punitività di sanzioni nell'ambito però del danno e quindi immaginare che ci sia il danno è una realtà molto complessa la responsabilità è una cosa molto complessa tradizionalmente ci sono molte regole che inducono a mantenere il quantum risorcitorio nell'ambito di certi criteri che non esagerare con la posta che viene messa a carico del danneggiante quindi ti faccio risarcire ciò che hai arrecato come posta negativa ma non esagero con la severità perché un eccesso di severità fatti risarcire sempre tutto il danno anche il più lambicato misterioso difficile sarebbe eccessivo per te quindi le regole sulla responsabilità civile sono spesso regole di limitazione della responsabilità questo è molto chiaro nel 1223 ma anche in altre regole ecco parlare di funzione allora di sanzione nell'ambito della responsabilità civile oggi di punitività restando entro l'ambito del danno significa secondo me pensando soprattutto al danno non patrimoniale ma anche quello patrimoniale parlappello a due meccanismi abbastanza diversi un meccanismo che di tipo sanzionatorio esercitorio è quello secondo cui quando il danno viene arrecato con dolo o con colpa grave o con dolo magari particolarmente sottile rabbioso e punitivo come può accadere qualche volta nell'ambito della famiglia nelle responsabilità fra oncologi allora ecco il meccanismo è questo maggior dolo maggior cattiveria maggiore malvagità uguale a maggiori danno questo vale soprattutto per il danno morale in cui è abbastanza evidente il rapporto con le componenti soggettive dell'illecito ma può venire in qualche modo anche per il danno esistenziale sia quello biologico se quello non biologico allora in questo caso ti esercisco di più in quanto sei stato cattivo quindi ti punisco ti sanziono ma non per il fatto che voglio punirti ma semplicemente perché col tuo comportamento hai arrecato un danno maggiore di quello che la vittima avrebbe subito se tu avessi agito semplicemente con colpa con leggerezza ti avrei esercito anche in quel caso ma meno severamente perché ti avrei perdonato in quanto sei stato soltanto negligente essendo tu stato invece un malvagio che agito di proposito ecco che è giusto che tu esercisca il danno che hai effettivamente subito perché hai arrecato perché la vittima ha sofferto di più il danno morale è molto esemplare questo meccanismo e lo cogliamo anche in una serie di sentenze che non ho tempo di citare ma che hanno comunque questa caratteristica maggiore risarcimento in caso di dolo o colpa grave perché è maggiore il danno che tu hai subito che tu hai arrecato l'altro meccanismo invece prescinde da questo è quello che fa capo sostanzialmente alla regola americana intended consequences never true remote le conseguenze volute non sono mai troppo lontane cioè in questo caso la sanzione la severità che l'ordinamento giuridico esprime nei confronti dell'autore di una condotta pesante e particolarmente riprovevole non è tanto il fatto del danno che comunque sarebbe rimasto lo stesso ma il fatto che tu essendo stato cattivo non meriti particolare indulgente diciamo a livello processuale ricostruttivo questo vale molto per la causalità come appunto la regola americana immaginiamo la causalità come fatta di una serie di catene di linee di conseguenze una dopo l'altra una collegata alla precedente che si allontanano sempre di più dal momento dell'accito iniziale immaginiamo che appunto la considerazione dell'ordinamento si fermi a quelle immediate dirette nel 1223 sostanzialmente in caso di dolo ti riserciisco di più le conseguenze lontane causalmente non lo sono mai abbastanza perché non ci sia un risarcimento quindi anche conseguenze sofisticate lambiccate insolite in cui veramente il legame teologico si assottiglia molto in caso di dolo diventano risercibili la scuola vale probabilmente anche per altre categorie in generale per il fatto che tu sei stato cattivo va in un trattamento processuale cattivo tutte le cose che riguardano anche i danni per esempio più sottili più lambicati più periferici che tu saresti forse esentato da risercire in quanto una serie di meccanismi potrebbero questa conclusione in caso di dolo sul piano soprattutto della regola della prova la distribuzione dell'onore della prova a fare parti non può prescindere dalla considerazione della cattiveria della colpevolità se hai stato più cattivo hai recato questo danno di proposito come spesso accade in materia di famiglia quindi i danni di questo tipo a sanzionatori oppressivi affrettivi trovano un largo spazio qui perché effettivamente si possono produrre questi misteri di ciò che è accaduto fra lui e lei o anche qualunque rispetto ai figli ma soprattutto far congi e non tanto con le violazioni dell'obbligo di assistenza in cui inizialmente basta la colpa ma in quelle della violazione dell'obbligo di fedeltà qui c'è ampio spazio per il fatto che nel processo si formano varie poste vari momenti misteriosi difficili sfuggenti in cui la prova è difficile ma ecco qui la regola sanzionatoria se sei stato cattivo tutto a tuo carico fa sì che sostanzialmente si scattano una serie di presunzioni sì il rapporto legame magari è fragile non lo so esattamente se tu dove lo provare ma visto che sei stato cattivo devi controprovare altrimenti pagherai anche per questo questo meccanismo processuale sanzionatorio diverso dal precedente può essere molto fortuoso se penso a tutta la giurisprudenza in materia di danno indofamiliare oggi non abbiamo parlato del danno indofamiliare mi pare non l'avete tenuto fuori ma quello indofamiliare è molto significativo da questo punto di vista se pensate alle sentenze più significative che hanno fatto la toia anche un po' lontana d'accordo ma adesso parlo in forma cartabile le cose dovrebbero cambiare perché si potrà richiedere l'esercimento all'ambito dello stesso giudizio la storia è puntellata da questi elementi i danni familiari sono una cosa molto misteriosa coeliendo c'è largo spazio perché si creino passaggi legami sinapsi misteriosi difficili da far valere e in questo caso il fatto della dolosità o della gravità della colpa addirittura della malvagità della specificità del dolo come spesso accade in una terra familiare può essere un elemento perizione se è stato cattivo quindi diamo per scontato che queste cose sono effettivamente una conseguenza della tua cattiveria anche se sono un po' lontano un po' strambo un po' misterioso un po' insolite ciò non basta presentarci dalla roba di un esercitore dovrai controprovare tu qualche cosa e ti pagherai tutto fino all'ultima live grazie grazie professore grazie davvero speriamo di incontrarla qui da noi in presenza sarebbe ottimo per noi perché abbiamo in mente di organizzare altri incontri magari glielo facciamo sapere in tempo utile così si può organizzare grazie ancora allora passo la parola al dottor Ceccarelli altro giudice del tribunale di Tivoli grazie tutti i giovanissimi e sono molto contenta perché veramente sì non parte vabbè gli uomini purtroppo che dobbiamo fare sono oggi sono in prevalenza gli uomini però in genere diciamo che non ci possiamo lamentare quanto a presenza femminile sia in gestatura che nell'avvocatura siamo un numero notevole credo che noi siamo 16.000 e gli avvocati dei maschi 11.000 dell'avvocatura sì in sezione prima a Roma sinceramente è vero non ci possiamo lamentare e credo che siano tutte donne tranne uno vero? sì uno solo ordinari sono tutte donne sì è vero comunque mi fa piacere lo stesso passare la parola al dottor Valerio Ceccarelli seppure sebbene maschile di legalità maschile prego grazie ringrazio per l'invito e per l'organizzazione di questa conferenza molto se non tutto è stato detto cercherò quindi nel mio intervento di tracciare una una sorta di linea conduttrice all'interno dei vari argomenti che già sono stati toccati e proprio per cercare un filo conduttore vorrei iniziare da una citazione letteraria di di Salvatore Rosa l'invendicata ingiuria chiama da lunge le seconde offese cioè il danno rimasto non vendicato rimasto non tutelato tende ad attirare tende a provocare seconde offese se questa come dire citazione può non essere appagante può non essere calzante rispetto al diritto civile in generale rispetto all'istituto risarcitorio dove la finalità è quella di ripristinare la condotta la situazione anteriore rispetto all'illicito nel diritto di famiglia invece sembra seguirsi una logica diversa perché? perché nel diritto di famiglia in particolare la finalità principale è anche quella di evitare le seconde offese come possiamo come dire applicare come possiamo incarnare nel diritto di famiglia cosa si intenda per seconda offesa beh la seconda offesa è anzitutto la reiterazione dell'offesa originaria la prosecuzione di una condotta lesiva condotta lesiva sia dell'altra parte dell'unione che può essere l'altro coniuge o l'altra parte dell'unione non coniugale sia anche soprattutto nei confronti del minore ma seconda offesa è anche la risposta della parte lesa rispetto all'offesa che ha subito la quale in assenza di una risposta dell'ordinamento non vedrebbe altra tutela che agire di fatto per le stesse vie questione da evitare evidentemente tramite l'intervento del diritto seconda offesa però soprattutto nel diritto di famiglia è anche la situazione del minore il quale vedendosi vittima vedendosi soggetto ad un comportamento ingiustificato da parte di uno dei genitori di un comportamento lesivo interiorizzando quel comportamento ritererà in futuro come ci dicono gli psicologi a sua volta seconde offese verso altre persone quindi come evitare quali sono gli strumenti che abbiamo per evitare le seconde offese se nel diritto come abbiamo detto nel diritto civile quindi nell'istituto risarcitorio in generale c'è un principio di equivalenza tra risarcimento ed effetto pregiudizievole nel diritto di famiglia in particolare accediamo ad una logica anche sanzionatoria e in questa prospettiva proprio leggerei l'articolo 473 bis 39 che già abbiamo analizzato ma vorrei vederne proprio la struttura in questa prospettiva ossia ragionando tra fatti specie ed effetto come abbiamo imparato all'università in caso di gravi inadempienze anche di natura economica o di atti che arrechino pregiudizio al minore o d'ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale il giudice può d'ufficio l'effetto lo vedremo dopo ma anzitutto nella fatti specie abbiamo una rigorosa alternativa una rigorosa carattere alternativo tra le ipotesi indicate dal legislatore tutte con o partiamo da una delle ipotesi centrali non la prima non l'ultima indicata dal legislatore atti che arrechino pregiudizio al minore in questa tra le diverse ipotesi vi è espressamente l'indicazione del pregiudizio quindi di un effetto pregiudizievole di un danno a conseguenza come nell'istituto risarcitorio in generale pregiudizio lemma pregiudizio che invece non ricorre nelle altre ipotesi ossia gravi inadempienze anche di natura economica gravi inadempienze quindi non ci dice il legislatore che arrechino pregiudizio di gravi inadempienze ovvero di atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale anche qui non ci dice il legislatore che arrechino pregiudizio come invece nell'altra ipotesi analizzata quindi se il legislatore ha inteso rendere elemento del costitutivo della fattispecie il pregiudizio sia il danno conseguenza per il minore l'ha fatto solo per una di queste ipotesi così delineata la fattispecie vediamo l'effetto anche qui il legislatore ci dà ipotesi alternative il giudice può anche d'ufficio ammonire il genitore inadempiente l'ammonimento prima ipotesi individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o un'osservanza successiva ogni giorno di ritardo la straint che anche abbiamo visto oppure condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniale compresa tra 75 euro e 5000 euro sanzione secondo comma nel quale però abbiamo un richiamo del primo comma ci dice nei casi di cui al primo comma quindi identica fattispecie le stesse ipotesi poste in via alternativa tra loro solo una delle quali richiede l'elemento del pregiudizio nei casi di cui al primo comma il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente a risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o anche d'ufficio del minore ora su questo secondo comma come abbiamo già detto in precedenza si è discusso del 709 terra è da capire se si tratti di un risarcimento punitivo o meno propongo la tesi della natura sanzionatoria perché abbiamo il pregiudizio indicato nel primo comma solo in una delle ipotesi alternative quindi nelle altre ipotesi non è richiesto il pregiudizio il secondo comma richiama i casi del primo comma quindi con diverse fattispecie prive dell'elemento del pregiudizio certo e qui si può discutere si parla di condannare il genitore in nata impianta al risarcimento dei danni quindi l'elemento del danno esiste ma come leggerei questo secondo comma con un richiamo alla concezione del danno evento non anche non solo del danno conseguenza richiamato solo in uno delle fattispecie alternative di cui al primo comma condannare quindi per più che al sarebbe per un risarcimento per il risarcimento del danno evento e qui volevo porvi rispetto al 709 terma del tutto direi compatibile con questa nuova norma quanto una parte della motivazione di una sentenza che ho trovato nel tribunale di Roma del 2022 2 novembre 22 dove si dice questo in tale seconda ipotesi ci si riferisce a quest'ultima ipotesi che abbiamo menzionato l'intervento del giudice quindi improntato ad una sostanziale coartazione all'adempimento di doveri genitoriali a fronte della ritenuta lesione dell'interesse del minore attraverso gli specifici rimedi elencati che assolvono una funzione non già compensativa essendo la misura del risarcimento commisurata alla gravità oggettiva e soggettiva del comportamento lesivo non invece all'entità del danno subito quindi abbiamo due parametri radicalmente diversi gravità oggettiva e soggettiva del comportamento e non o non solo entità del danno subito se ci muovessimo nell'ottica risarcitoria classica saremmo strettamente vincolati al danno subito potendo valutare la gravità della condotta solo in relazione alla sua antigiuridicità qui invece abbiamo una quantificazione legata proprio alla gravità della condotta parametri questi due che possono essere radicalmente distinti e seguire binari radicalmente diversi tra loro vi propongo per esempio una fattispecie che mi è capitato di analizzare nella mia attività un minore ha un padre totalmente assente è stato assente fin dai primi anni della sua vita una condotta potremmo dire estremamente negativa una condotta grave da parte del genitore che volontariamente evidentemente si è allontanato e non ha curato la vita di suo figlio però quello stesso minore quel minore è stato inserito in modo del tutto positivo nel nuovo nucleo familiare costruito dalla madre col suo nuovo compagno con nuovi fratelli nuovo compagno e nuova ambiente familiare che anche in sede di prova orale ha dimostrato dare al minore un'affettività una presenza nella sua vita che probabilmente il genitore parte dell'unione familiare entrata ormai in crisi già nella sua nascita non gli avrebbe già mai consentito quindi condotta molto grave da parte del genitore biologico del minore al quale può non essere conseguito essere conseguito in misura del tutto minimale un danno conseguenza a carico dello stesso minore che non ha di fatto quasi mai conosciuto il suo genitore naturale questo per dirvi quanto la gravità del danno evento e della condotta che ha generato il danno evento e l'entità del danno conseguenza possono seguire binari tra loro radicalmente separati che il cui divario mentre nel diritto nella responsabilità quilliana generalmente intesa non sarebbe uno scandalo visto che andiamo a ripristinare una situazione anteriormente lisa nel diritto familiare invece crea uno scandalo perché e qui mi ricollego a quanto detto inizialmente perché l'invendicata ingiuria chiama da lungo le seconde offese quel minore sapendo che il proprio genitore biologico l'ha lasciato in quel modo inserito successivamente in una nuova unione familiare quando sarà grande trovandosi in una situazione di difficoltà cosa potrebbe fare se l'ordinamento non avesse reagito rispetto a quella condotta che lui ha subito potrebbe essere stimolato a lasciare a abbandonare di nuovo un suo successivo figlio d'altronde se l'ordinamento non dà una risposta a queste condotte perché non porle in essere e qui mi ricollego a quanto detto precedentemente su un inadempimento efficiente dunque e mi avvio mi avvio anche a chiudere risarcimento sanzione astraint cosa più della astraint non è diretta ad evitare le seconde offese anche qui la doppia logica sanzionare e prevenire sanzionare e prevenire e sanzionare proprio per prevenire e questo anche per dirvi come diversi istituti predisposti dal diritto di famiglia possano rispondere in modo del tutto diverso a diverse fatti specie in questo caso per esempio sempre del padre assente al quale mi ricollego una astraint ci dice la giurisprudenza di legittimità neanche potrebbe essere applicata perché non si presta ad essere attuato tramite coercizione la presenza di un genitore nella vita del figlio e che presenza nella vita del figlio potrebbe garantire una coercizione indiretta d'altro canto il rimedio risarcitorio o sanzionatorio si presta bene all'attuazione di questo di questo d'altro canto d'altro canto invece immaginiamo la mancata partecipazione di un genitore alle operazioni peritali nel corso di un giudizio di famiglia immaginiamo una mancata messa a disposizione da parte del genitore nei rapporti col servizio sociale condotte che possono pregiudicare il minore ma che prima di prestarsi a un risarcimento o anche a una sanzione che guardando al passato non avrebbe un effetto per il futuro una straente ben si presta in questi casi a spronare all'adempimento il genitore in adempimento quindi diverse condotte diversi istituti per i rimedi e in questi casi ricollegandomi a quanto ho detto all'inizio con la finalità principale di evitare le seconde offese grazie grazie a lei dottore io chiedo scusa a tutti veramente sono stata a mio malgrado irrispettosa delle vostre relazioni perché il tempo è stato veramente mi riservo di dottore lei professore scusi lei parli comunque faccia il suo intervento di dieci minuti e proseguiamo fino a che va bene passo la parola al professore Spoto il professore di diritto privato del dipartimento di giurisprudenza dell'università di Roma 3 e grazie allora intanto grazie all'ordine agli avvocati di Roma per questo invito e soprattutto al collega Santini ho l'onere di parlare per ultimo che è un compito difficile ma anche diciamo appunto vantaggioso perché vantaggioso molte delle cose che avevo intenzione di dire sono state già dette o svantaggioso insomma c'è però diciamo appunto la possibilità di tentare diciamo appunto una sintesi seppur breve delle cose interessanti che sono state dette cominciamo proprio a parlare delle relazioni familiari e della riforma forse sì è stato fatto un passo più che un passo in avanti possiamo diciamo appunto vedere e pensare che sia un passo diciamo appunto di lato in quanto in realtà non si va veramente diciamo appunto avanti danni punitivi nella relazione illustrativa dal decreto legislativo 149 del 2022 è stato chiaramente affermato che l'ammontare delle sanzioni previste all'articolo 473 bis 39 citato può essere ricondotta alla nozione di danni punitivi sono pienamente d'accordo con le verplessità che sono state diciamo appunto avanzate poc'anzi dal dottor Ceccarelli su questa configurazione dei danni punitivi la forma dei danni punitivi sembra diciamo appunto unicomprensiva ma in realtà leggendo bene tenterò seppur se il tempo è tiranno di dimostrare o comunque tentare diciamo potete dimostrare che in fondo di risarcimento punitivo non si tratta è qualcosa diciamo appunto di diverso e cominciamo anche a dire risarcimento punitivo perché è vero che nell'ambito della dottrina e della giurisprudenza l'espressione danni punitivi è entrata ormai di comune uso però non ci dobbiamo dimenticare che in realtà si tratta di una traduzione sbagliata dall'inglese appunto punitive damages peccato che damages non è il parole di damage danno ma la parola damages è proprio da tradurre sarebbe appunto più correttamente da tradurre come risarcimento quindi risarcimento in funzione punitiva le sezioni unite della corte di cassazione ci ricordava poc'anzi la relazione precedente hanno sdoganato un po' la tesi del multifunzionalismo della responsabilità civile la funzione sanzionatoria la funzione appunto punitiva non sarebbe estranea quindi alla responsabilità civile diciamo appunto del nostro sistema tuttavia il nuovo apparato rimediale in attuazione dei doveri genitoriali nell'indicare queste tre differenti misure che il giudice potrebbe adottare anche congiuntamente e il fatto che queste misure possono essere adottate congiuntamente è un argomento che in realtà deve farci riflettere sulla differenza di questi diciamo appunto provvedimenti che rispondono sicuramente a obiettivi diversi allora seppur veramente in pochissimi minuti cerchiamo di esaminarle in modo diciamo appunto individuale prendendole una per una la più semplice c'è una da consigliare la lettera A la lettera A prevede l'ammunizione come censura per inasprire la risposta contro gravi inadempienze da parte dei genitori e quindi l'obiettivo qual è? è quello di porre il più elevato livello di attenzione per evitare il pregiudizio al minore ma si tratta appunto di un'ammunizione più complicata invece la configurazione sia della lettera B che della lettera C la lettera B richiama espressamente l'articolo 614 bis lo ricordiamo brevemente il giudice fissa la somma di denaro dovuta all'obbligato per ogni violazione o in osservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento ora è chiaro che in queste ipotesi c'è un richiamo a misure concepite per spingere all'adempimento o qualifichiamole diciamo appunto come vogliamo è stato detto diciamo appunto la strette questi provvedimenti proprio perché hanno questa funzione hanno una funzione diciamo appunto diversa rispetto al concetto di punizione appunto sono delle strette sono dei mezzi coercitivi indiretti per adempire concepiti quindi se guardiamo bene in una logica che è quella preventiva deterrente più che come risposta punitiva all'inadempimento già accertato questa è un'osservazione importante perché nell'ambito del diritto di famiglia nessuna norma di denaro potrebbe logicamente e in generale non soltanto nel diritto di famiglia non è possibile applicare una somma di denaro quando diciamo appunto già stato compiuto il comportamento dovuto o quando appunto non c'è danno lo stesso legislatore ha previsto la possibilità di ufficio di modificare i provvedimenti in vigori e infatti per esempio in caso di ravvedimento del genitore addirittura è possibile la revoca diciamo appunto le eventuali sanzioni anche è possibile la facoltà di emendare i provvedimenti di coercizione in diretta se appunto si rivelano poi non necessari di fronte al fatto che in una seconda battuta c'è una fattiva collaborazione da parte degli interessati quindi la lettera B appunto riveste più che altro la funzione di misura coercitiva in diretta ed impimento e ovviamente è qualificata come è stato correttamente detto più come astreente un'altra diciamo appunto configurazione è quella della lettera C la lettera C prevede la condanna al pagamento di una somma di denaro compresa tra 75 euro e 5000 euro a favore delle casse e delle ammende allora l'individuazione di un parametro minimo e massimo consentirebbe appunto di rinvenire in questo senso un argomento decisivo a favore della tesi essenzialmente è sanzionatoria di questo rimedio sebbene è una sanzione diciamo appunto amministrativa perché mi sono diciamo dilungato in questa diciamo appunto lettura perché risarcimento d'azione equazione sono concetti diversi che hanno e perseguono obiettivi separati il risarcimento risponde a quale esigenza l'esigenza di riparazione di un pregiudizio che viene causato ad un soggetto per l'inosservanza di un comportamento che sarebbe giuridicamente dovuto senza danno non può esserci nessun risarcimento e questo diciamo appunto è un concetto il concetto di sanzione è legato come il risarcimento a una dimensione patologica non fisiologica del diritto però opera diversamente perché perché le sanzioni servono a colpire l'inosservanza l'inosservanza di un comportamento dovuto una sanzione può essere inflitta anche se non vi è stato effettivamente un danno quello che conta è la violazione dell'obbligo di condotta indipendentemente dal pregiudizio e allora siamo forse in presenza appunto di sanzioni quindi risarcimento e sanzione hanno diciamo appunto delle operano diciamo appunto diversamente lo stesso possiamo dire per le misure coercitive indirette per la strente perché quando si parla di misure coercitive indirette indirette diciamo appunto per l'adempimento siamo comunque di fronte e l'esame appunto del diritto comparato ce lo rende evidente siamo di fronte a strumenti che sono concepiti in realtà proprio per assicurare l'osservanza delle regole cioè la funzione è una funzione essenzialmente persuasiva non c'è una logica punitiva non ci dovrebbe essere non allora se queste diciamo appunto nozioni vanno concepite diversamente quando parliamo dell'esercimento punitivo c'è un bellissimo articolo di Rordoff che consiglio diciamo appunto di qualche mese fa con forse in danni a responsabilità il quale appunto prende atto come tutta diciamo appunto la giurisprudenza maggioritaria e l'ottrina maggioritaria che comunque l'ingresso dell'esercimento punitivo dei danni così punitivi è entrato nello sordinamento ma bisogna ovviamente operare del distinguo perché forse oggi noi abbiamo una tendenza ad allargare un po' troppo il confine e a fare entrare in questa categoria dei danni punitivi quasi tutto ecco i confini invece tra questi concetti e mi sembra che sia evidente da una lettura attenta al di là di quello che ci dice la relazione illustrativa della norma i confini tra questi concetti devono essere mantenuti fermi si tratta di strumenti che riguardano tre differenti livelli di risposta dell'ordinamento giuridico uno stesso comportamento potrebbe richiamare e qui il discorso diciamo appunto l'applicazione congiunta potrebbe richiamare l'applicazione di tutte queste misure proprio perché ripeto ancora una volta sono dirette a espletare diciamo appunto funzioni diverse se tali diciamo provvedimenti avessero finalità unicamente sanzionatoria qualche perplessità ad accettare questo cumulo ci sarebbe perché ci potrebbe anche diciamo appunto essere una sorta di duplicazione di pena per una stessa diciamo appunto infrazione comunque il canone della norma sarebbe stato diverso mi avvio veramente alle conclusioni nel fare una riflessione e mi piace appunto farla insieme a voi che possiamo dire se dobbiamo diciamo appunto trovare una una critica a un po' la tendenza del legislatore del diritto di famiglia in queste ultime diciamo appunto anni è quella di avere semplicemente guardato a un'unica prospettiva dei danni endofamiliari ci ricordava bene il dottor Barbazza che l'illecito endofamiliare ha una doppia diciamo appunto anima se vogliamo e in passato il tema dell'esercimento dei danni degli leciti endofamiliari poteva essere ben rappresentato con una sorta diciamo di prisma dalle molte facce dove tutti i rapporti intersoggettivi erano espressamente richiamati e oggetto della stessa attenzione al contrario se leggiamo tutte queste novità tra virgolette e in particolare il testo che abbiamo oggi commentato noi abbiamo un'unica prospettiva la dottrina penso diciamo appunto i lavori di sesta di carrapezza figlia parla ha parlato diciamo di una sorta di prospettiva di tipo paidocentrico in cui effettivamente tutto ruota diciamo appunto nell'ambito della responsabilità genitoriale e dei figli e all'interno del nucleo familiare il minore non è più destinatario di protezione ma è soggetto pienamente ai tre diritti fondamentali questa prospettiva che è diciamo appunto è convincente però occulta alcune criticità disegna insomma e concludo un modello di famiglia che trova proprio l'unico collante nella responsabilità genitoriale e sottovaluta o molto spesso addirittura dimentica invece la dimensione ben più ampia degli leciti endofamiliari così fermo restando alle esigenze tutelari minori il radicale spostamento del baricentro dalla coppia alla finalità di procreazione non può essere considerato dal punto di vista di noi studiosi con un certo entusiasmo perché conferma che cosa? conferma ancora una volta la realizzazione di legami fragili mutevoli all'interno di una famiglia che è sempre più concepita come una formazione sociale che per usare la definizione di Bauman è sempre più liquida grazie 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 io credo che al di là di tutto bisognerebbe forse pensare a una politica per la famiglia un pochino più intensa più vivace da parte anche dello Stato perché bisognerebbe lavorare molto sulla genitorialità sempre sulla sulla prevenzione e sul fatto che si si deve essere buoni genitori ci si deve lavorare sopra sulla genitorialità e senza arrivare poi invece all'aspetto punitivo per l'enariempienza io ringrazio tutti vi diciamo che vi rinvio ad altri incontri già stiamo lavorando con 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 la casantini quindi grazie a tutti per l'attenzione grazie ai relatori e scusate ancora per la fretta che ho purtroppo dovuto incutere grazie ancora dall'ordine degli avvocati di Roma alla prossima grazie a tutti grazie a tutti